Musica Come sapete la separazione delle carriere è nel programma di governo e abbiamo più volte ribadito il concetto che essa sarà presentata. Lo sarà entro i mesi di aprile o al massimo di maggio di questo stesso anno. Io dico se la politica ritiene che siano indispensabili e utili i testi nei magistrati, io aggiungo facciamoli per tutte le strutture apicali della pubblica amministrazione di questa nazione e quindi anche nei confronti dei politici e soprattutto quelli che hanno incarichi di responsabilità di governo, incarichi regionali, comunali e dato che ci troviamo oltre ai testi psicoattitudinali facciamo anche il narcotest. Un ennesimo decreto su Superbonus per coprire i disastri economici di Giorgetti, test psicoattitudinali con cui vogliono delegittimare i magistrati. Intanto gli italiani sono sempre più poveri e la ministra Sant'Anché, che è indagata per truffa su fondi Covid che servivano agli italiani, ai cittadini in pandemia, resta a suo posto. Il governo Meloni è vergognoso. Non ho nulla da aggiungere al mio comunicato stampa. Non partecipo a processi mediatici, ho fiducia nella magistratura. Sino adesso avete visto com'è data con le desistenze, per cui vado avanti, tranquillo. Ma in passato avete chiesto le dimissioni ad altri ministri per molto meno, ministra. Ma nessuno mi ha chiesto il giusto. È giusto che si facciano delle valutazioni in base a delle condanne. Dopodiché è un tema di Fratelli d'Italia. Dal mio punto di vista, Fratelli d'Italia, il Presidente del Consiglio, ne valuterà l'opportunità che rimanga o non rimanga. Bisogna mettere un tetto di alunni stranieri in ogni classe per tutela loro e per tutela anche di tutti gli altri bambini. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori. Allora, meno di due mesi e mezzo dalle elezioni europee, ci sono alcune questioni che in particolare, mettiamola così, agitano la maggioranza. C'è la questione del super bonus. Diciamo che all'indomani del decreto legge, che ha praticamente cancellato quello che restava della misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, c'è Forza Italia che in qualche modo frena. Perché? Perché insomma lo stop allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti, soprattutto nelle zone terremotate, insomma sta suscitando qualche discussione. Ieri si sono fatti sentire anche i governatori del Lazio, Rocca e dell'Abruzzo, Marsilio, che sono entrambi i governatori di centrodestra, di Fratelli d'Italia. Il governo ha detto approfondiremo la questione. Forza Italia dice in Parlamento si può migliorare, ma insomma le risorse sono molto scarse. Giorgetti ripete che ogni volta che sente sentir parlare di super bonus gli vengono attacchi di mal di pancia. Poi c'è, come già ieri insomma abbiamo visto ampiamente, ancora una questione che oppone il governo alla magistratura dopo il Via Libera ai test, cosiddetti test psicoattitudinali per chi volesse intraprendere la carriera di magistrato a partire dai bandi del 2026. Ieri è stato molto tagliente provocatore il procuratore capo di Napoli, Gratteri, che ha detto i test per i magistrati va bene, ma facciano questi test anche i politici, chi ci governa, magari si sottopongano anche a narco e alcol test. Ieri peraltro il ministro della giustizia nordio in Parlamento ha riparlato della separazione delle carriere, arriverà un provvedimento tra la fine di aprile e i primi di maggio, ha detto che ci vuole un tagliando per la legge Severino. E poi la questione, come avete sentito, di Daniela Santanchè, la ministra si mostra tranquilla, dice nessuno mi ha chiesto le dimissioni, il 3 aprile, subito dopo la pausa delle vacanze pasquali, alla Camera si discuterà la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle nei confronti della ministra del Turismo per le sue vicende giudiziarie. Poi c'è tutta una parte internazionale di cui ci occuperemo con le nuove minacce di Putin che dice se verranno forniti gli F-16 all'Ucraina e fossero utilizzati contro Mosca, forse noi potremmo distruggerli anche se si trovassero in aeroporti in territori di paesi Nato. Insomma, questo è il quadro molto complesso. Bentornato ad Angela Azzaro di Affito Imposto. Buongiorno. Saluto collegato con noi Francesco Maria Del Vigo, vice-edettore del giornale. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a te, saluto e ringrazio per la maggioranza l'onorevole Paolo Barelli che è il capo gruppo alla Camera di Forza Italia. Bentornato, bentornato a Benedetto della Vedova. Buongiorno. Più Europa. Poi ci parlerà anche delle grandi manovre in vista del voto europeo. Allora, ci è collegato con noi, lo saluto e lo ringrazio, il presidente di Federshepi Costruzioni, Antonio Lombardo, che è un imprenditore del settore edilizio delle costruzioni e rappresenta anche un'associazione di imprenditori. E io vorrei partire da lui, approfittando della presenza di Barelli, quindi di un esponente molto importante di Forza Italia, perché sui social da molti giorni, ma anche ieri in particolare, è stato molto duro contro il provvedimento del governo. Lombardi? Sì, buongiorno innanzitutto e grazie per l'invito. Guardi, sul superbonus purtroppo dobbiamo controvertire un po' di informazione negativa, perché se ne parla ormai solo in termini dispregiativi. L'attenzione ormai si focalizza quasi sempre sui costi del superbonus. Si parla di costi per le casse dello Stato, indubbiamente ingenti, sono costi di gran lunga sottostimati, però non si parla dei benefici. Benefici perché sono intertemporali, si prorraggono negli anni, sono intersettoriali e impattano su una serie di settori diversi. Io voglio ricordare che quando si parla di edilizia abbiamo 88 settori che sono coinvolti indirettamente nell'indotto del settore delle costruzioni. Ebbene, devo dire che il decreto che è stato varato dal governo è stata l'ennesima sorpresa, Pancani, perché noi parliamo di un provvedimento che ha subito, da quando è stato emanato il decreto 34, ben 36 modifiche. Quella di ieri si aggiunge la quindicesima che riguarda la cessione dei crediti e lo sconto in fattura. Quindi capirà che c'è un settore nel totale sconforto, ma non solo. Noi abbiamo anche i general contractor, i condomini, 25 mila condomini nei quali vi sono delle famiglie che ormai sono murate in casa nelle case che sono circondate dai ponteggi. Quindi credo che bisogna senz'altro interloquire con il governo. Mi fa piacere che Forza Italia, che è una forza di governo, abbia già dato delle aperture relativamente alla modifica di questo decreto. Un decreto che voglio ricordare elimina la possibilità anche alle aree terremotate di poter fuire della cessione dei crediti d'imposta e dello sconto in fattura. Quindi è un decreto che sicuramente va rivisto, va rimodulato. Allora aspetti, aspetti Lombardi, poi torniamo, approfittiamo subito del Presidente Barelli, così ci diciamo qualcosa. Perché io adesso non so se tutta la parte che non riguarda le aree terremotate, insomma abbiamo sentito, insomma mi pare che la stretta, proprio per tutelare i conti pubblici, la stretta del governo sia molto forte. Voi volete delle modifiche solo per quanto riguarda le aree terremotate, visto che insomma molti governatori già si sono fatti sentire o no Barelli? Allora, innanzitutto va chiarita la posizione di fondo di Forza Italia che è consciente dei numeri, dei dati che ha fornito il Ministro Giorgetti e che questa sia una spesa, ahimè, preventivata in modo evidentemente non corretto, ma non mi riferisco adesso agli ultimi mesi o all'ultimo anno e che ovviamente crea una emorragia sui conti pubblici che è impossibile da sostenere. Detto questo, Forza Italia ritiene che nel passaggio parlamentare possano essere focalizzati dei punti di sofferenza che possono essere non solo migliorati ma possono essere superati, ma questo è all'unisono con gli altri partiti alleati, quindi non c'è nessuna divisione o frattura o visione diversa. No, no, ma questo dal punto di vista politico lo capisco, ma dal punto di vista concreto. Ma noi in concreto riteniamo che questa misura debba essere invertita come rotta. I provvedimenti che sono stati presi fino a oggi, evidentemente il Ministro Giorgetti ritiene che non siano sufficienti per riadrizzare i conti dello Stato. Credo che occorre intervenire in quelle aree disagiate, come è stato detto, nelle aree in cui le attività edilizie sono dovute anche a fattori sismici, quindi al problema delle cause post terremoto e vogliamo anche vedere meglio una possibilità controllata di poter far sì che l'azienda che acquisisce il credito possa rivolgersi in modo corretto, in modo possibile, al sistema bancaio. Quindi questi sono gli obiettivi che noi ci prefiggiamo. Ma lei se la sentirebbe di dire che per le aree terremotate verranno reintrodotte le facilitazioni o no? Ma io sono certo che su questo il Governo sia già al lavoro, che il decreto, un decreto che è stato ovviamente molto recepito in maniera molto forte, molto dura, ha questa giustificazione di fondo, e cioè il controllo della spesa pubblica. Si potrebbe dire che gli uffici competenti, quando fu varata, sia anni fa e sia nel proseguo, i conti come li ha fatti, e questo è un tema che ci interessa, però adesso occorreva assolutamente intervenire. Questo impegno economico sta raggiungendo circa 9 miliardi al mese, questo è quello che ha sottolineato Giorgetti nel suo intervento. Detto questo, chiaramente si dovrà migliorare specialmente per quei cittadini e quelle aree che sono veramente in una situazione di difficoltà. Mi dice, Parivo Penetra, quando lei dice, insomma, ci sono delle responsabilità per chi non ha saputo, come dire, prevedere una spesa così ingente, siccome qualche giornale oggi lo scrive, ma nel Mirino c'è il ragioniere generale dello Stato? No, lo so, io non ho nel Mirino nessuno, io so soltanto che ad esempio c'è un grande utilizzo del bonus sismico, quindi la messa in normativa per le eventuali calamità sismiche e questo in aree dove il sisma non esiste. Ci sono quindi una tendenza probabilmente anche di alcuni, ovviamente non di tutti, probabilmente di averne abusato. De l'avete? No, perché ho visto che è appassionato al tema. No, 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 a parte che Giorgetti avrebbe potuto, ad esempio, quando si è fatta quota 100 che ha incriso le decine di miliardi sperperate. Quello riguardava la previdenza, no? Sì, sì, che guardava i prepensionamenti. Poteva pensarci anche un po' prima. Detto questo, il super bonus per me è stato un grave errore per come è stato concepito, e i risultati si vedono, noi siamo sempre stati contrari. Registro però che questo governo continua con lo stesso cliché, cioè vanno conferenza stampa, presentano un decreto e giorno dopo un pezzo importante della maggioranza già dice che il decreto... Mettetevi d'accordo prima, così gli italiani capiscono meglio. C'è un altro punto però che io voglio sottolineare di questo decreto, oltre a quelli che sono stati sollevati. Cioè in questo decreto si toglie lo sconto in fattura e la cessione del credito per le onlus, quindi dalla Croce Rossa al Cotolengo, Libera, cioè tutte entità che non hanno reddito e quindi non possono scaricare fiscalmente negli anni gli incentivi per le ristrutturazioni. Io dico a Barelli, visto che già si sta occupando di questo, noi porteremo in Parlamento questo tema, stiamo attenti perché anche lì si sta facendo un disastro. Cioè tu li mandi avanti e poi blocchi sconto in fattura e cessione del credito anche ad entità no profit che hanno cominciato i lavori o volevano cominciarli secondo la normativa vigente. Loro però non hanno l'alternativa, mentre se tu togli sconto in fattura e cessione del credito a lei o a me, noi avremo dieci anni per recuperare il rebate fiscale, queste entità a quel punto lì, siccome non hanno reddito, non pagano tasse e non potrebbero mai rientrare. Sarebbe un gravissimo errore. Allora è tardissimo, vado in pubblicità, torniamo subito con gli altri ospiti sulla questione anche perché dobbiamo fare un altro paio di domande al Presidente Antonio Lombardi. A tra poco! Allora, questione super bonus, sentiamo subito Francesco Maria Del Vigo. Che pensi Francesco? Nel senso che Barelli ce l'ha spiegato, ha detto no, ma non è che c'è, non ci sono fibrillazioni nella maggioranza, noi vogliamo migliorarlo, insomma ha fatto un po' il pompiere, mettiamola così. Beh, sicuramente all'interno della maggioranza se ne sta dibattendo. Ho sentito dire che ci sono stati 36 aggiustamenti a questo provvedimento. Beh, mi permetto di dire che se ci sono stati 36 aggiustamenti vuol dire che già non era nato particolarmente bene. Purtroppo siamo una Repubblica fondata sui bonus e molto spesso questi bonus, come in questo caso, seppur nati, immagino finti bene perché contestualizzandoli nel periodo storico, che erano nati sicuramente con la migliore delle intenzioni, spesso vengono sfruttati da qualche furbo, che è anche sbagliato, come dire, semanticamente chiamarle furbi, da qualche persona che cerca di lucrarci sopra e di rubare sui bonus, e questi bonus diventano delle vere e proprie voragini. 200 miliardi di bonus è una cifra paragonabile a quella del PNRR, questi sono i soldi che sono stati spesi per il bonus. Ovvio che c'è stato anche qualche effetto positivo, ma ci sono state anche molte persone che hanno abusato di questo bonus. Cosa deve fare il governo adesso? Si trova davanti a una voragine che in qualche modo deve coprire. Ovviamente ci sono alcune categorie, penso al caso Onut, che ho parlato della vedova, penso ai territori che sono stati colpiti dal sisma, in cui qualche eccezione deve essere fatta, non si può chiudere un rubinetto in un modo così drastico e rigido, però questo rubinetto va chiuso, perché è insostenibile una misura di questo teore totalmente insostenibile dal punto di vista economico. Secondo me, questa è una mia opinione personale, in un momento non straordinario, come questo è anche sbagliato dal punto di vista politico direi, come forma di aiuto eccessivo dello Stato, ma a prescindere, siccome è stata concepita pochi anni fa, ma era tutto sommato un'era totalmente storica, diversa tra virgolette per le contingenze che c'erano, posso capire com'è nato, ma adesso non può assolutamente andare avanti così. Purtroppo c'è bisogno rendersi conto, è sicuramente, come dire, antipatico un provvedimento, quello preso dal governo, ma è anche assolutamente e drasticamente necessario in questo momento. Non può andare avanti un superbonus, così è evidente. Allora, due cose. Intanto, mi pare, il provvedimento nasce con il governo giallo-rosso, il governo Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, tanto per così rinfrescarci la memoria. Vado a Angelo Azzaro, ma adesso tutti contro, no? Però tutti lo volevano il superbonus, addirittura Fratelli d'Italia, vado a memoria, fuori dalla maggioranza, chiedeva l'allargamento del perimetro. Ma che è successo? È successo che, anche per questioni, secondo me, strettamente di consenso, a volte anche in buona fede, comunque si è andati troppo avanti senza assumersi la responsabilità politica di bloccare un provvedimento che evidentemente avrebbe creato questa emorragia. Allora, tre cose. Intanto la responsabilità politica, perché di quello stiamo parlando, che oggi si cerchino capri espiattori all'interno della ragioneria dello Stato, lo vedo anche un po' svilente rispetto a quello che dovrebbe essere il ruolo politico, no? Il ruolo della politica che deve guidare questo tipo di decisioni. La seconda questione, tutti i vari aggiustamenti, anche quello lo reputo sbagliato, perché se non vada bene, si sta da tanto tempo, quindi bisognava bloccare tutto e dire qual è la strada che vogliamo intraprendere, perché cambiare continuamente la legge significa far impazzire il cittadino, rendere impossibile per il cittadino capire dove andare. Allora, veniamo anche alla questione di questi giorni, la decisione di Giorgetti, Forza Italia, che per fortuna si oppone ad alcune norme, ma non si potevano mettere d'accordo prima, perché questa cosa crea, al di là del fatto più politico, io ci credo che non c'è un vero disaccordo politico, però questo è un aggravante, perché allora perché non ti siedi attorno a un tavolo e fai una norma chiara da subito? Mi pare, non vorrei sbagliare, mi pare che anche nel Consiglio Ministro è entrato un po' a sorpresa questo provvedimento. Forza Italia, credo oggi, Tagliani ha detto che loro non sapevano, è stata una sorpresa anche per loro, quindi dico, ma su una norma così importante, dove i cittadini stanno impazzendo e dove comunque ci sono tanti cantieri aperti, ma non si può prendere una decisione una volta per tutte in maniera chiara, perché così si crea solo confusione e panico. Allora, su questo, io adesso prima di andare da Barelli per sentire una risposta, voglio porre altre due questioni, un po' sulla scia di quello che avete detto, ad Antonio Lombardi. La prima è, ma aziende, dal suo punto di vista, ma soprattutto cittadini che si trovano nel limbo, mi verrebbe da dire, che fanno adesso Lombardi? Guardi, c'è grande incertezza. Io prima di rispondere alla domanda, mi deve consentire, vorrei fare chiarezza, perché si parla di deficit, di buco di bilancio, di super bonus che avrebbe creato una grossa voragine in questi conti. Io vorrei capire, Pancani, ma questa voragine dov'è? E' stata approvata una manovra di bilancio con 16 miliardi di extragettito, extragettito che proviene in gran parte dal super bonus. Poi le do un altro dato, l'Istat dice che nel 2023 il PIL, il rapporto debito-PIL, è sceso al 137.3 ed era al 140.5. L'unica cosa che è aumentata è il rapporto deficit-PIL che è passato al 7.2. E le dico anche il perché, perché questa è stata una scelta di governo che ha fatto classificare all'Istat e poi all'Eurostat i debiti come pagabili. Significa, Pancani, che i debiti che vengono pagati in quattro anni con i crediti di imposta sono stati caricati tutti sul bilancio dell'anno 2023 ed hanno portato questo scompenso di aumento del deficit. Ma andando a guardare i dati delle maggiori entrate, i dati della crescita del PIL, io voglio ricordare, 2021 l'Italia ha fatto un più 8,3, 2022 più 3,7, nel 2023 un più 0,9, abbiamo avuto un extragettito fiscale che non è un costo. Io vorrei capire, ecco, il governo deve dare i dati qual è il buco del bilancio del superbonus. Scusi, scusi, però Lombardi, a questo punto, visto che lei è così preciso in questi dati, io quello che le voglio chiedere... Ma li abbiamo inviati al governo, Pancani. No, no, ma le voglio chiedere una cosa diversa. Mi scusi. Le voglio chiedere una cosa diversa. Il superbonus al 29 febbraio, quindi diciamo un mese fa, meno di un mese fa, ha generato detrazioni per 114 miliardi di euro. Questo è il dato. Perfetto. Se mettiamo dentro le voci, diciamo, positive a cui lei faceva riferimento, alla fine dai suoi calcoli, dai dati di cui lei dispone, qual è la cifra alla fine di cui stiamo parlando? Allora, le faccio un attimo i calcoli sui 114 miliardi che ha elencato lei, perché dobbiamo essere precisi e dare un'informazione corretta. I 114 miliardi per lo Stato italiano hanno subito un immediato rientro, lo dice la Fondazione dei Commercialisti, Nomisma, Cresme, anche la stessa Istat, allo Stato rientra subito il 34% della spesa. Sono rientrati come tributi IVA, Ires, IRPEF dei lavoratori con tributi previdenziali e assicurativi. e abbiamo i primi 38,9 miliardi pancani che rientrano immediatamente allo Stato. Poi abbiamo 13,9 miliardi che qualcuno dimentica che vengono a fondo perduto dal PNRR che nella misura 2.1 della transizione ecologica prevede 13,9 miliardi a fondo perduto per il super bonus. Quindi sono entrati immediatamente sui 114 miliardi allo Stato 52,8 miliardi. Questi 52,8 miliardi sono entrati subito. I 114 pancani lo Stato li paga in 4 anni non cash ma tramite una detrazione fiscale che viene spalmata sui 4 anni. Mediamente abbiamo 27-28 miliardi all'anno che vengono detratti. Quindi mi spiegate questo buco? Allora chiarissimo, chiarissimo. Allora questa è un po' una contronarrazione Barelli quella che dice Lombardi. Cioè dice sì, ci saranno 27-28 miliardi non è che sono bruscolini considerando la fame di risorse che c'è. Però è un po' diverso da quello che si racconta. Guardi, i cittadini tutti i calcoli e i dati che sono stati ora offerti non li comprendono e quindi io non mi ci metto dentro a dare anche i dati di cui sono in possesso. Io ritengo che il ministro Giorgetti non abbia anticipato la Pasquetta e quindi non è che abbia mangiato troppo in anticipo e quindi non si è inventato questi dati. Io dico solo una cosa da cittadino. Io non trovo che sia corretto che, non so, a Via della Spiga a Milano o a Viale Parioli a Roma si possa ristrutturare casa ottenendo il 110%, cioè praticamente gratis. Perché non è corretto per i tantissimi cittadini che abitano in aree veramente disagiate e che avrebbero bisogno di un grande sostegno. Considerano anche la vetustà del nostro patrimonio e immobiliare? Quindi voglio dire ognuno può permettersi, ogni Stato può permettersi quello che ha a disposizione come portafoglio e non può andare oltre a quelle che sono le possibilità di cassa. Mentre invece trovo molto giusto e molto corretto che questa iniziativa che evidentemente è stato detto se ha avuto bisogno l'ha detto l'interlocutore poco fa se ha avuto bisogno di oltre 30 modificazioni evidentemente non era andato bene. E per rimanere però nel pratico e quindi nel reale io ritengo che nel percorso parlamentare debbano essere messe a fuoco quelle categorie e quelle situazioni che pretenderne un'inversione in corso d'opera sia impossibile pretenderlo. È stato parlato del mondo delle onlus aggiungo ma l'abbiamo già detto delle aree disagiate e cioè quelle del del cratere insomma che sono all'interno di una situazione di disagio post terremoto e credo che vada anche probabilmente rivista anche la possibilità della cessione del rivalutare in un modo corretto la cessione del credito nei confronti delle banche perché le aziende non sono in grado di fare loro da fra virgolette banca ma su questo si lavorerà. Una cosa è certa diciamo occorre e occorreva un'inversione di tendenza per tenere in ordine i conti dello Stato. Allora voglio salutare Antonio Lombardi la devo salutare mi dice proprio un titolo finale perché noi non abbiamo più tempo Il titolo finale il decreto di ieri ha sospeso anche gli alloggi che si stavano riqualificando nelle ERP gli istituti delle case popolari vi erano 122 mila abitazioni le case popolari delle varie regioni avevano effettuato dei bandi con la cessione del credito e lo sconto in fattura alloggi popolari che non saranno più riqualificabili se il governo chiaramente non farà un passo indietro su questo decreto quindi anche il tema delle abitazioni sociali è un tema importante Grazie intanto Antonio Lombardi Presidente del Federice di Costituzione questo un po' si innesta a quello che diceva lei cioè ha favorito persone che insomma avevano disponibilità e non chi come per esempio ha un alloggio magari in periferia da edilizia sociale popolare e che ha bisogno di lavori e interventi la cosa la cosa veramente brevissima è chiaro è chiaro il costo ora probabilmente è stato sottostimato è stato certamente sottostimato ma è chiaro che se una risturazione viene fatta a carico dello Stato in quanto il 110% ad esempio permette una copertura totale del costo è chiaro che qualcuno quel costo lo deve pagare e non è possibile che venga ripagato attraverso il volano positivo che genera nei confronti del sistema del lavoro e delle aziende quindi è chiaro evidente che si è creato una voragine probabilmente sottostimata e questo è stato un grande volevo passare un altro capitolo volevo aggiungere un flash due cose tutte queste risorse sono state investite sulle case spesso sulle seconde case è ovvio che un certo ritorno c'è stato non c'è bisogno di essere dei keynesiani per spiegarlo però l'errore è stato fatto di mettere tutti quei miliardi su un settore che non è il settore del futuro se noi avessimo messo quei miliardi su settori più promettenti sarebbe stato molto meglio per il futuro dell'occupazione della crescita economica dei salari migliori per i giovani eccetera eccetera secondo punto però la prossima volta coordinatevi siete al governo da due anni di questa cosa del super bonus giustamente se ne parla dall'inizio non è che fate un decreto il martedì e il mercoledì tutta la discussione su come correggerlo aspettate una settimana in più confrontatevi evitate di fare degli errori marchiani come secondo me ad esempio è quello di aver tolto le risorse alle ollo vediamo adesso c'è l'iter parlamentare quindi vedremo il consigliere è una cosa del genere un minimo di collegialità il consigliere di ministri è collegiale ma è così su tutto ma non è su tutto i dati positivi il parlamento ha ancora un margine la fiducia se lo danno al senato quando il parlamento opera diciamo è un fatto positivo ma è negativo che il decreto me lo spieghi è una pubblicità in vigore poi lo ricorregi veramente due titoli come dicevo uno sono noi comunque abbiamo queste eredità anzi questa cosa che riguarda il futuro quando dovremmo affrontare tutta la questione delle case green quindi saranno un costo per gli italiani enorme arriviamo con questa con questa difficoltà e poi giustamente si parlava delle case popolari quindi di un piano casa che in questo paese manca a fronte del fatto che tante persone sono sfrattate sono senza casa quindi il sociale è quello che sarà il futuro anche del paese dal punto di vista dell'edilizia due grandi questioni che restano totalmente aperte siccome è la prima la prima sottolineatura che hai fatto sul green ci riporta in Europa adesso vado in pubblicità dopo la pubblicità un po' di battute su candidature chi ci sarà chi non ci sarà chi si scontra con l'Europa chi non si scontra lo vediamo dopo la pubblicità ti sanno qual è la strategia che io ho in Europa e che penso sia condivisa do per scontato che sia condivisa da tutte le forze di maggioranza che è quella di portare una maggioranza di centrodestra anche in Europa che secondo me è un errore dividere o provare a dividere o magari far prevalere la campagna elettorale rispetto a ipotesi di divisione nel centrodestra perché è l'unico favore che si può veramente fare alla sinistra gli italiani che sceglieranno la Lega non sceglieranno mai un altro mandato per Ursula von der Leyen un altro mandato con i socialisti con la sinistra la maggioranza è solida è quello che accade nelle famiglie europee con l'accordo di governo con parte che è scritto con i nostri elettori io non farò mai polemiche alleate perché i nostri elettori vogliono che ci sia armonia abbiamo chiesto a Lucia Annunziata di guidare la lista del Partito Democratico al Sud il numero due quindi ho il piacere di annunciare che sarà uno dei più bravi sindaci d'Italia che ha contribuito con la sua amministrazione alla rinascita della sua città sto parlando di Antonio De Caro però oggi voglio annunciare che Giuseppe Antonici correrà con noi correrà con noi in questa competizione al Parlamento Europeo sarà capolista nella circoscrizione delle isole Sicilia e Sardegna per la prima volta dopo tanto tempo io farò un passo in avanti e sarò candidato in tutte e cinque le circoscrizioni FIO Europa vuole mettere al centro delle prossime elezioni europee il rilancio della integrazione del continente la necessità degli Stati Uniti d'Europa cambiamento di fronte a un mondo di un'Europa che va nella direzione sbagliata quella della guerra innanzitutto dell'economia di guerra una follia l'idea di emettere Eurobond non per rafforzare la protezione sociale la conversione ideologica i diritti il lavoro la sicurezza del lavoro ma per produrre nuove armi bombe munizionamento stiamo correndo verso il baratro è l'ora di fermarsi allora voglio ripartire da Del Vigo a proposito insomma adesso si avvicina grandi passi si avvicinano le elezioni europee intorno al 20 21 di aprile insomma la presentazione dei simboli e poi dei candidati ci sono già molti annunci molte indiscrezioni vedremo poi le squadre diciamo che si affronteranno perché come sappiamo ognuno corre per conto proprio faccio tutta questa premessa perché prima Angela Azzaro accennava per esempio al Green Deal alle case green ma è chiaro che se cambiassero gli equilibri in Europa come già praticamente sta avvenendo con diverse marce indietro sul Green Deal insomma cambierebbero molte cose peraltro l'Europa si sta attrezzando per quanto riguarda la difesa c'è una grande discussione che mai come di questi tempi è benvenuta almeno la discussione l'approfondimento il dibattito per cercare per come l'Europa deve attrezzarsi debba attrezzarsi vado da te per una tua riflessione beh allora senti innanzitutto secondo me come tutte le elezioni europee anche queste elezioni europee purtroppo faccio questo inciso rischiano di essere un grandissimo sondagione istituzionale sulle forze in campo come dire un mega mi piace messo sul social network di quello delle elezioni che non è un social network è un'istituzione importantissima che per molti anni è stata svilita se non utilizzata per mandare le serie B della politica come dire la seconda linea e ormai l'errore più grande fu fatto perché è fondamentale l'Europa tuttavia in questi ultimi due anni il governo di centrodestra che doveva essere un governo tra virgolette considerato isolazionista anti-europeista in realtà ha riportato l'Italia al centro della politica europea per lo meno di una certa politica europea penso a tutti come dire a tutti i viaggi a tutti i giorni che la von der Leyen ha speso in Italia accanto a Giorgio Meloni era campagna elettorale sicuramente sì ma l'Italia non si pensava durante la scorsa campagna elettorale scusate le piccoli parole quello delle elezioni politiche che avrebbe avuto un ruolo così centrale in termini dell'Unione Europea Unione Europea che deve essere però in parte rivista perché fra quello che diceva Giorgio Meloni che è giusto e poi lui diceva che Salvini c'è un punto di caduta nel senso questa Unione Europea faccio l'esempio del Green Deal per quattro anni è stata ossessionata da alcune politiche sul Green Deal sulle quali poi sta facendo autonomamente retromarcia secondo me ci sarà un cambio di vento e sicuramente penso per dire l'automotive non credo che le posizioni assunte dall'Europa negli ultimi tre o quattro anni verranno confermate e ripeto già l'Europa tenne stando la retromarcia ma questo lo vediamo anche seguendo i soldi soffiutando penso per dire al passo indietro che stanno facendo nella programmazione esclusiva di auto elettriche i grandi gruppi automobilistici occidentali questo perché? perché è evidente che se in Europa cambia la maggioranza si sposta più sulla destra e quindi diciamo che il fondamentalismo ecologico il talebanismo ecologico non le politiche ecologiche sono fondamentali ovviamente vengono messe da parte e se negli Stati Uniti come è probabile dovesse vincere per la seconda volta Donald Trump beh è evidente che questo come dire questo vento di eccesso verde verrebbe un po' mitigato su tutto l'Occidente per cui io credo che appunto già seguendo alcuni scenari economici alcune prospettive alcuni piani di programmazione aziendale si può vedere come l'ubriacatura da Green Deal per esempio è una cosa che verrà un pochettino accantonata quale sarà la maggioranza del Parlamento Europeo questo lo vedremo si vede che ci sono all'interno degli schieramenti questo mi riallaccio a quello che dicevo prima viene tutto visto anche molto penso ai candidati proposti dalla Schlein o al passo avanti come se non avesse mai fatto uno di Matteo Renzi sono ovviamente come dire parlo a Bruxelles per vedere il risultato che come dire per vedere le vedo che fa a Roma questo è evidente allora vado a Barelli poco fa visitando portando i suoi saluti la sua visita al contingente italiano in Libano Giorgia Meloni la premiera ha detto la pace non si costruisce con i sentimenti e le buone parole la pace soprattutto deterrenza impegno e sacrificio dice Giorgia Meloni tanti ne parlano seduti comodi sul proprio divano di pace ma non è così insomma mi sembrano parole molto nette quelle di Giorgia Meloni non inedite ma insomma molto nette e si trova in una zona in un'area del mondo in questo momento in Libano diciamo in fortissima ebollizione per usare un eufemismo Barelli io ho visto degli ultimi sondaggi anche su quello che l'Europa potrebbe quello che sarà l'Europarlamento e c'è un'avanzata diciamo delle destre mettiamola così ma non c'è un cambiamento sostanziale di quello che potrà essere l'equilibrio della prossima governanza europea ma allora è chiaro che le elezioni europee che hanno diciamo il senso finale di dare un governo all'Europa vengono metabolizzate a livello nazionale per una partita che abbia appunto un valore di carattere territoriale nel senso ogni partito misura la propria forza però c'è un fatto da tenere presente che in Europa andranno a votare circa 300 milioni e oltre di cittadini per cui non è che l'Italia o quello che dice un partito italiano diciamo sarà l'elemento caratterizzante di quale governo uscirà dalle urne in Europa detto questo io penso che sia complicato certo che ha ragione la Meloni anche noi vorremmo che dalle urne uscisse una possibilità di governo tra popolari conservatori e liberali ma questo lo vedremo dopo penso che in verità vedendo la composizione della maggioranza non sarebbero liberali ma sarebbero identità il gruppo di Salvini se si dice riproduciamo in Europa la maggioranza italiana negli liberali non ci sono o sbaglio non lo so ma questo può dire in Italia la questione dei numeri in Europa ai quali ci si riferisce credo ai quali la Meloni si riferisca sono quelli che ho detto io detto questo a me quello che interessa dire sostenere è che oggi l'Italia che ha delle esigenze e delle problematiche che gli altri paesi del centro e nord d'Europa non hanno debito pubblico mancanza di approvvigionamento autonomo dal punto di vista energetico ed altro è chiaro che per il governo italiano per l'Italia si offre una opportunità enorme di avere un peso veramente nuovo perché questo? Perché la Germania ha un problema il cancelliere attuale non ha un peso come ha avuto per decenni la Merkel Macron ha delle difficoltà nel suo paese per tenersi una maggioranza coesa l'Inghilterra è uscita dall'Europa per cui oggi oggi noi possiamo avere un ruolo incredibile su questo penso che anche Giorgia Meloni si giocherà insieme al governo italiano una partita importante allora facciamo così adesso sentiamo subito della vetola che ci deve raccontare un po' di cose di più Europa Italia Viva degli Stati Uniti d'Europa ma lei deve andare via oppure restare ancora perché so che Barelli aveva un impegno io le 10 e mezzo devo andare via e allora dobbiamo allora ma saluto dopo delego il mio amico mi rappresento al meglio Ubi Mai no no allora facciamo così intanto buongiorno Paolo Sottocolona ciao Paolo buongiorno insomma ci porti notizie sempre di tempo non buono per pasto ma questo lo sappiamo al momento allora c'è il solito inganno no? il tempo migliora e poi peggiore e poi doveva finire allora questa piccola perturbazione è passata sta passando ha dato delle piogge anche sulle zone del centro questa mattina però si muove abbastanza velocemente al momento le precipitazioni più significative riguardano soprattutto il nord infatti la previsione per oggi dava sulle regioni centrali delle piogge ma non di forte consistenza e soprattutto sulle zone dell'Appennino direi che sono già passate ormai qualcosa in più sull'Alta Toscana sulla Liguria di Levante il nord-est la parte centrale del nord insomma lì ancora le piogge ci sono per gran parte della giornata domani questa situazione si attenua ecco dov'è l'ingannevole miglioramento ingannevole per qualcuno non sarà per tutti migliora al sud migliora al centro ancora qualche pioggia al nord localmente intensa solo sulla parte settentrionale del Piemonte spesso in zona alpina quindi nevicate non a bassissima quota arriviamo alla giornata di sabato in cui c'è sicuramente ancora ecco c'è l'altra carta ci dovrebbe essere l'altra carta comunque con questa tendenza ha un nuovo peggioramento sulle zone di nord-ovest e siamo alla giornata di sabato quindi se vogliamo dare una prima linea il nord avrà un tempo decisamente incerto per non dire perturbato le zone del centro sono un po' sul confine quindi probabilmente Toscana Umbria le Marche avranno molte nuvole il resto del centro e il sud ecco l'unica cosa sicura sembra che al sud non succederà assolutamente niente sulle altre regioni qualche rischio c'è abbiamo ancora un po' di tempo per tra virgolette decidere non siamo noi domani ci darai insomma domani diamo domani e sabato la sentenza definitiva perché sotto colonna è Cassazione per quanto riguarda il meteo allora grazie al presidente Barelli buon lavoro allora insomma anche perché quando chiude i lavori per Pasqua chiudono quando in Parlamento? faremo Pasqua e Pasquetta no a parte le battute io credo che venerdì dovremmo ah quindi domani domani insomma si va qualche giorno di pausa per la Pasqua ci vediamo tra pochissimo allora a proposito delle elezioni europee adesso vado subito dall'onorevole della vedova prima vi do una notizia che è arrivata questa mattina perché questa mattina c'è stata la seconda udienza in Ungheria a Budapest nei confronti di Ilaria Salis ebbene Ilaria Salis è apparsa in aula nuovamente con le manette ai polsi ceppi e catene alle caviglie una catena tirata da un agente come Guinsaglio esattamente come accaduto nell'udienza del 29 gennaio scorso come sapete è da oltre un anno detenuta a Budapest con l'accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra peraltro alcune persone che erano diciamo un gruppo di persone legali amici di Ilaria Salis che erano che intervenivano entravano in aula insomma in occasione di questa seconda udienza hanno denunciato di aver ricevuto minacce da un gruppo di estremisti di destra avrebbero ricevuto minacce del tipo stai zitto ti spacco la testa ecco questo tanto per ricordarci di una vicenda che è tutt'altro che chiarita nonostante come si dice in questi casi le interlocuzioni tra il governo italiano e il governo ungherese allora onorevole della vedova le voglio fare subito due domande dirette mi pare di capire che si è chiuso un accordo tra voi di più Europa e Italia Viva in primis per presentarvi insieme all'elezione europea lo possiamo intanto confermare questo o no? sì poi volevo dire una cosa anche sulla Salis le vengo subito intanto le volevo chiedere questo i vostri oggi tra i vostri detrattori più feroci ci sono quelli di azione di calenda che dicono questa è una lista di scopo è soltanto per cercare di superare il 4% e portare qualcuno in Europa in maniera dispregiativa ho visto che Renzi oggi sulla sua e-news risponde in maniera molto forte dice non risponde alle aggressioni degli ex compagni di strada tanto per citare qualche espressione oltre a voi e a Italia Viva chi c'è? perché voi vorreste una lista si chiamerà Stati Uniti d'Europa non l'ho ben capito sì 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 ma un telegramma sulla vicenda Salis che è una vicenda tutta politica ed è una vicenda tutta europea perché riguarda lo stato di diritto in Ungheria che è stato e sta progressivamente per essere cancellato e Orban è un amico politico di Salvini e Meloni è stato per anni un loro modello e questo è un problema per quello che accadrà in Europa perché Meloni è vero come è stato detto da De Vigo che ha cambiato linea da che voleva uscire dall'euro ha trovato la realtà si è scontrata con la realtà e quindi anche se purtroppo non è vero che è così nel cuore delle politiche europee come cerca di spiegarci abbiamo visto il vertice in Polonia poco tempo fa comunque ha cambiato atteggiamento ma resta legata politicamente agli anti-europei come Orban con quello che stiamo vedendo anche in questi giorni noi abbiamo proposto proprio per uscire dalla logica che veniva detta prima delle elezioni europee come sondaggione abbiamo proposto una lista di scopo che è una cosa molto seria noi abbiamo noi ce l'abbiamo nel DNA come più Europa ma per chi di noi ha una storia radicale l'idea degli Stati Uniti d'Europa che noi perseguivamo nel 94 quando eravamo probabilmente troppo in anticipo oggi vediamo che siamo in ritardo cioè che la necessità di un'Europa forte integrata capace di difendere la libertà e la prosperità dei propri cittadini europei è un'Europa che è in ritardo perché non è abbastanza unita eccetera abbiamo detto questo è essenziale queste elezioni europee sono essenziali perché c'è il rischio che cambino gli equilibri dentro l'Unione Europea e che quindi si vada verso le politiche alla Orban sui diritti sui diritti civili sullo Stato di diritto sul ruolo della magistratura sull'indipendenza dei media sul sostegno all'Ucraina tutto questo rischia di essere perduto e l'Italia è un paese importante non è vero come diceva Barelli che è tanto quello che succede siamo il terzo paese portiamo una delegazione importantissima al Parlamento Europeo e abbiamo proposto l'ha fatto Emma Bonino facciamo una lista di scopo sugli Stati Uniti d'Europa rivolta innanzitutto a quelli che stanno nella famiglia di Renew Europe cioè destinati ad andare nello stesso gruppo parlamentare europeo e votare insieme e arrivo ad azione Italia Viva con Renzi ci ha detto sì io sono a disposizione di questo progetto di questa lista se si farà ha detto io sono anche pronto a fare un passo indietro l'invito era stato rivolto a tutti anche ad azione di Carlo Calenda che sta come noi nell'Alde nei liberali europei nel gruppo di Renew fino ad oggi loro non hanno voluto essere in questo progetto sono entrati anche il partito socialista di Maraio che non è nella famiglia dei liberali i liberal democratici europei quindi è una lista aperta che vuole parlare di Europa e che pensa che l'esigenza immediata dei cittadini europei sia andare verso gli stati europei allora la domanda che volevo fare la faccio ad Angela Azzaro è più o meno una domanda che molti si fanno dal tuo punto di vista è stato molto chiaro Benedetto della Vedeva ha detto noi puntiamo a quello allora c'è la lista Stati Uniti d'Europa ci sarà Calenda e c'è anche Forza Italia l'elettorato di Forza Italia che guarda in quella direzione poi indipendentemente dal fatto che faccia parte della coalizione che governa il paese cioè c'è un bel affollamento al centro o no? Secondo te insomma si cannibalizzeranno i voti? Diciamo che quel progetto più in crisi non è sicuramente quello di più Europa che negli anni ha mantenuto un profilo molto netto anche con alcuni aspetti di radicalità rispetto a alcuni temi come i diritti civili e quindi io penso che questa cosa non riguardi più Europa riguardi invece molto di più sicuramente sia Renzi che Calenda in rapporto a Forza Italia che è una Forza Italia che abbiamo visto crescere a livello territoriale vedremo cosa succede all'Europa diciamo che in Forza Italia c'erano molte aspettative di accrescere i consensi di superare la Lega comunque il progetto centrista in questo momento vive in Forza Italia c'è poco da fare mentre anche a causa dei litigi a causa anche di una leadership molto litigiosa vedo Azione e Renzi e quindi Italia Viva molto più in difficoltà soprattutto dal punto di vista politico perché in questo momento quell'area che loro volevano occupare è già occupata e quindi bisogna vedere per quell'area scusa ti faccio la domanda poi la faccio a Del Vigo ci vorrebbe un federatore? ma forse no non lo so mi spingo insomma adesso è chiaro che chi ci segue è molto appassionato di politica quindi queste cose le conosce sono discorsi che si fanno sul federatore come Deus Ex Machina ho sempre dei grandi dubbi nel senso perché se il progetto non è definito a livello politico e se tu pensavi di poterti portare via dei consensi e Forza Italia non gliel'hai portati via quale collocazione scegli anche dal punto di vista dei due poli quello dovrebbe essere quella il vero cambio di passo che la vera scommessa è in una politica polarizzata così tanto che spazio c'hai però forse un telegramma Forza Italia è a sostegno del governo di Salvini e Meloni che di liberale e di centrista non hanno nulla sentiamo Del Vigo sentiamo Del Vigo ma quello sono da noi quella di Forza Italia è una scelta totalmente di campo puoi anche dirti liberale ma se sei a sostegno delle politiche di Salvini e Meloni amici c'è un'incorrenza di Cerni fatemi sentire quella è un'ambiguità che resta dico però che è un'ambiguità che Renzi ha a sua volta nel senso che anche Renzi su questo europeo ha fatto una scelta chiara allora Francesco Francesco Maria Del Vigo eccoci no io dicevo secondo me rispondendo alla prima parte della domanda sono d'accordissimo con quello che ha detto Angelo Alzarro cioè il problema del centro è un problema che riguarda molto calenda e molto Renzi perché oggettivamente cioè quello spazio è storicamente occupato da Forza Italia come dire fra l'originale e le copie direi che vince assolutamente Forza Italia sta vincendo dal punto di vista numerico al di là di quello che come dire si poteva prevedere dopo la scomparsa di Berlusconi e molti già preconizzano la scomparsa anche del partito stesso i sondaggi di oggi per dire diffusi dal Corriere della sera dicono che Forza Italia ha sorpassato la Lega nuovamente quindi Forza Italia funziona perché all'interno di questo governo per dare una componente liberale penso anche alle privatizzazioni penso anche alcuni provvedimenti come ho parlato stamattina che ha preso gli urgenti per cui il peso il contrapeso di Forza Italia è assolutamente fondamentale ricordiamoci che Forza Italia oltre a essere un partito assolutamente liberale è un partito che ha come dire non ha federato ha costruito il centrodestra cioè il centrodestra italiano senza Forza Italia non esisterebbe si sono spostati tutti i pesi all'interno della coalizione centrodestra sarebbe assurdo negarlo dal 94 oggi il 27 marzo era ieri 30 anni dopo la nascita del centrodestra è cambiato assolutamente tutto all'interno dei pesi e dei contrapesi della coalizione ma la coalizione è sempre la stessa dopo 30 anni è sempre la medesima ci sono sempre gli stessi partiti politici e questo è stato premiante io faccio un ragionamento poi non di merito chiaramente rispetto a quello che sono anche i valori di Forza Italia faccio un ragionamento di collocazione proprio strettamente politica di metodo e di quale tua area vai ad occupare è chiaro se uno fa una proiezione in quello che sarà l'Europa del futuro e la carta che si sta giocando il quadro cambia completamente e se uno dovesse osservare l'Europa dal punto di vista di questo governo e della carta che sta giocando Giorgia Meloni con cui Forza Italia è alleata è chiaro che la preoccupazione cresce notevolmente perché quale Europa andiamo a costruire l'Europa dei diritti e della democrazia o l'Europa di Orban che porta Ilaria Salis in catene dentro un tribunale è chiaro che qui le cose cambiano completamente e dal mio punto di vista cambia molto cioè c'è una grande preoccupazione un attimo questo non c'entra nulla con Giorgia Meloni nel senso se c'è anzi un tentativo come non c'entra nulla c'entra come è una sua alleata e lei gioca cioè gioca proprio con questo tipo di rapporti scusate se c'è un tentativo di cercare di portare verso una strada democratica come no si vede quant'è democratica oggi come è arrivata l'area Salis c'è un problema gravissimo con la democrazia le immagini della Salis sono vergognose non c'è ombra di dubbio cioè quelle immagini fanno schicco sono vergognose non c'è ombra di dubbio e la politica italiana no scusa Francesco perché non era chiara la tua posizione un flash da benedetto della finale ripeto noi dobbiamo discutere di più Europa di Europa oltre che di più Europa la vicenda ungherese però è chiara cioè io voglio sentire da Meloni e da Salvini parole chiare non solo sulla Salis ma sull'Ungheria di Orban è quella l'Europa che volete sì o no e cosa dirà Forza Italia quando Salvini quando il trampiano Salvini dirà che lui sta con Orban questo è il tema di Forza Italia liberale ma nessuno tra con Orban un gioco sporco adesso la Salis capotaggio pulito no ma di Orban noi parliamo e rinfacciamo l'amicizia con Orban di Salvini e Meloni non abbiamo avuto bisogno di vedere la Salis perché sappiamo quello che succede in Ungheria conosciamo i veti di Orban sul sostegno all'Ucraina noi vogliamo fare una campagna elettorale che guardi all'Europa verso gli Stati Uniti d'Europa e chi sta con noi sta su questo progetto e ha fatto una scelta chiara e li ringraziamo e aspettiamo gli altri ciao buongiorno Davide caro Davide ecco ti ciao caro Andrea buongiorno allora sì noi riprendiamo da qui vi porteremo in diretta nell'aula numero 97 del Metropolitan Court di Budapest dove come stavate discutendo anche voi c'è il processo Ilaria Salis processo nel quale si deciderà se concedere alla Salis gli arresti domiciliari in una casa di Budapest c'è una delegazione anche di deputati italiani di sette deputati italiani ci collegheremo tra poco con loro avremo in studio Pina Picerno Roberto Arditti verrà Salvatore Cuffaro l'ex senatore che è in odore di candidature per le europee Francesco Borgonovo affronteremo poi il tema dei magistrati dei test psicotitudinali torna a trovarci Pier Camillo Davigo focus su quanto sta avvenendo a Mosca si parla di attentatori gli attentatori della tragedia di Mosca al cinema che arriverebbero da Istanbul dalla Turchia anche su questo qualche aggiornamento ve lo daremo ma partiremo lì da Budapest con queste immagini sconcertanti della Salis nuovamente portata in tribunale con le catene oggi potremmo dire che è il giorno in cui si deciderà la sorte di Ilaria Salis a tra poco grazie grazie a David Parenzo mi rivolgo a Benedetto della Vedova deve essere un X un telegramma proprio per quello che dicevamo prima siccome queste europee si prospettano come una prova di forza tra le singole forze politiche parliamo del nostro paese non parliamo dell'Europa il vero rischio è che si parlerà di temi diciamo relativi al nostro ombelico casalinghi domestici dei grandi temi dell'Europa delle sfide europee non si parlerà questo poi alla fine noi ci proveremo e mi auguro che i media a partire da Coffee Break faranno trasmissioni dedicate al tema europeo perché l'Europa è il destino migliore degli italiani questa è la nostra convinzione ma di questo si deve discutere non è che dobbiamo stare a fare il sondaggio come è stato detto perché i parlamentari europei che noi eleggeremo che i cittadini eleggeranno saranno decisivi perché siamo un grande paese e portiamo tanti parlamentari europei a determinare il futuro dell'Europa che le persone siano scelte persone di grande competenza perché bisogna portare in Europa i migliori questo l'abbiamo capito perché lì moltissime delle cose si decidono lì grazie a Francesco Maria Del Vigo grazie a Angel Lazzaro grazie a Benedetto della Vedova ci vediamo domani in perterri di 9.40 grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti